Ragazzi, anche oggi un video clamoroso, grandissima idea per un cash cow channel, veramente lo aprirei io, ma a me questo canale YouTube, Michele Maralino Business, mi danneggia perché invece di aprire questi business io li condivido qua su YouTube, quindi come minimo iscriviti al canale e se è la prima volta che mi vedi guarda questo canale YouTube, guarda le playlist, i corsi completi, se vuoi fare business online, se vuoi guadagnare da casa, se vuoi incrementare i tuoi guadagni, qui trovi un sacco di corsi gratuiti, di video utili strategie, tool per guadagnare online, intelligenza artificiale che veramente ci facilita la vita, iscriviti al canale, guarda tutti i video oggi vediamo un'idea per un cash cow channel, pazzesco, sarebbe interessantissimo, cash cow channel per chi non lo sa sono quei canali YouTube che hanno come obiettivo appunto creare un guadagno dalla monetizzazione quindi noi pubblichiamo tanti video su un argomento specifico, interessanti, devono essere video che intrattengono, che danno valore alle persone però non ci mettiamo la faccia, creiamo, ci sono dei tool che ti permettono di creare questi video anche semplicemente da un testo e praticamente tu ottieni il video pronto, li dai il testo e questi software grazie anche all'intelligenza artificiale ti mettono immagini che sono in linea con quello che c'è scritto, è pazzesco quindi non fai neanche grossa fatica a montare tutto quindi immagini, sottotitoli e voce, pazzesco, guardatevi il corso, veramente risorsa gratuita di un'ora e mezza, il corso completo da zero a cash cow channel, lo trovate, ve lo metto anche qui nelle schede ma sta nella playlist corsi completi che trovate su questo canale YouTube con tre tool di intelligenza artificiale, possiamo creare un cash cow channel e lì spiego tutto, ok? Allora, oggi appunto un'idea per creare un cash cow channel sono partito, ero su CiaGPT, famosissimo tool di intelligenza artificiale e gli ho chiesto, conosci delle truffe? Sì, conosco diversi tipi di truffe che sono stati segnalati nel corso degli anni tuttavia tieni presente che le truffe possono varare nel tempo le mie informazioni sono aggiornate solo fino al settembre 2021 questo per tutti i geni che mi commentano che CiaGPT non puoi fare i libri con CiaGPT perché sono plagiati da internet non è collegato a internet, è un database aggiornato fino al 2021 sì, ci sono delle estensioni che lo puoi collegare a internet per avere informazioni più recenti ma io lo sconsiglio se lo usate per fare testi, per fare testi di video, testi di libro cioè sì, per creare libri o per creare video tenetelo così originale senza internet che vi dà sempre materiale inedito comunque, di seguito sono elencate alcune delle truffe più comuni truffe finanziarie, truffe delle lotterie, truffe romantiche online truffe delle offerte di lavoro, truffe dell'assistenza tecnica, eccetera eccetera allora ho detto, puoi creare una storia inventata su una truffa romantica online? certo, ecco una storia inventata su una truffa romantica online e qui abbiamo il nostro, per esempio, testo per un video di un ipotetico canale YouTube intanto non so perché Perugia è piena di turisti, sempre vabbè, sta arrivando l'Umbria Jets siccome l'Umbria non è il mare, ha l'Umbria Jets significa niente, però è piena di turisti io sono di Taranto e Taranto non ha tutti questi turisti pur avendo un mare pazzesco andate a Taranto, faccio uno spot quest'estate ma non c'entra niente, torniamo a noi allora questo è il testo per praticamente un video quindi noi possiamo creare un cash cow cioè sarebbe bellissimo un canale YouTube con delle storie su delle truffe cioè l'argomento truffa è sempre interessante anche il video che ho pubblicato ieri sulla truffa di chi vi vende di quelli che vendono i corsi sui cash cow channel pazzesco, qui ce n'è uno completamente gratis e praticamente come truffano le dashboard quel video è piaciuto tantissimo quindi da lì l'idea ma un canale YouTube di truffe storie inventate sulle truffe poi le storie romantiche sono belle c'era quella serie su Netflix del truffatore di Tinder molto bella, storia vera cioè ci sono delle storie lucidate quindi c'è interesse quindi apri un cash cow channel prendi questo testo lo dai in mano a io consiglio e utilizzo flykey.ai oppure trovi qualcuno che ti fa i video ok però se vuoi farli tu praticamente c'è questo tool di intelligenza artificiale flykey.ai ma c'è anche l'umen5 ce ne sono anche altri ne parlo in quel corso di un'ora e mezza sui cash cow channel completamente gratis lo trovi più nelle schede e nella playlist corsi gratis ok quindi dai il testo a questo tool e il tool ti restituisce esattamente tutte le immagini belle no? di incontri di uomini donne cioè tutto perfetto poi ti mette i sottotitoli e ti mette anche la voce cioè guarda leggiamo la storia in una fredda sera d'inverno Sara una giovane donna in cerca dell'amore decise di iscriversi a un sito di incontri online dopo qualche settimana bla 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 uno si intrippa se poi ovviamente è fatto bene con tutte le immagini quindi puoi chiedere le diverse storie sulle truffe romantiche oppure truffe delle lotterie vediamo poi puoi scrivere no scrivi una storia inventata su una truffa delle lotterie comunque a prescindere da questo specifico questa specifica idea che semplicemente ti dice ti sto dicendo ti sto dando uno spunto non è uno spunto è proprio un cash cow channel pronto nel senso che un cash cow channel dove praticamente si raccontano storie di truffe però non soltanto storie di truffe può essere una buona idea aprire un cash cow channel dove racconti delle storie poi ovviamente devi trovare la nicchia giusta dove queste storie possono essere utili perché comunque devono interessare oppure devono essere utili quindi magari storie di uomini che ce la fanno che hanno da zero riescono a diventare milionari ok potrebbe essere un cash cow channel di di storie di ispirazione per chi vuole diventare ricco e quindi magari ce l'hai anche nella nicchia una delle nicchie no il business come guadagnare che youtube paga di più perché comunque lo scopo principale del cash cow channel è guadagnare con la monetizzazione quindi si poi puoi metterci affiliazioni e quant'altro però diciamo che il fulcro è un business che diciamo il suo guadagno arriva da da quello dalla monetizzazione di youtube fate vedere però il corso che ho fatto su come diciamo sfruttare youtube mettendoci la faccia aprendo un canale youtube e come youtube ti aiuta a vendere le competenze te lo metto qui nelle schede e lì ci sono soldi veramente maggiori però non tutti vogliono metterci la faccia tutti sognano diciamo di lavorare al computer in autonomia e se metti in piedi un canale youtube ovviamente è figo cioè fa il testo tata tata crei il video pubblichi e poi ti vai a fare il bagno 2-3 mila euro al mese li puoi fare tranquillamente abbiamo visto questo canale youtube per esempio da cui ti parlo in 15 mesi questo mese giugno ha superato i 1000 euro poi farò un video aggiornamento ci eravamo lasciati tipo ad aprile l'ultimo video aggiornamento se lo ritrovo te lo metto qui nelle schede sì perché a giugno poi c'è stato maggio sì quindi aprile ad aprile era arrivato a 500 euro i mesi precedenti irrilevanti considera che dopo 9 mesi mi hanno dato la monetizzazione il primo mese ha fatto 27 poi 80 poi 100 poi è arrivato 500 euro poi maggio ha fatto 600 euro vabbè ti sto anticipando il video aggiornamento però maggio 600 e adesso giugno 1200 considerando che è nato marzo quindi marzo marzo poi c'è aprile maggio giugno sono 15 mesi ci vuole tempo ragazzi il primo anno lavorerete gratis mi fanno ridere anche prima ho parlato con uno che voleva una consulenza dicendo noi soldi per la consulenza dimmi qualcosa che online posso fare per fare soldi subito smettetela di ragionare così non andrete da nessuna parte ci vuole tempo youtube ci vuole tempo cash cow channel magari siete più bravi di me ci mettete 6 mesi magari ci mettete 3 mesi però diciamo che la norma va dai 6 mesi ai 12 mesi per avere la monetizzazione però immaginatevi dopo cioè quando tu raggiungi magari hai lavorato un anno e quindi poi ottieni la monetizzazione fai un sacco di view se fai forse dovresti fare il video in inglese però forse c'è più concorrenza nel mondo però puoi fare più view in Italia non è non è che ce ne sono tanti di cash cow quindi potrebbe anche essere buono farlo in italiano ti metti lì ti 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 fai il tuo video con l'intelligenza artificiale è diventato semplicissimo il punto è devo creare video belli quindi chi diciamo si mette di impegno e cura i minimi dettagli e anche le immagini le storie magari qui puoi chiedere sviluppa me la meglio oppure approfondisci oppure prendi cioè più ti impegni più probabilità hai di successo se prendi pum prendi la prima cosa la butti pum e butti su youtube così a mosso comunque come te possono farlo tante altre persone ci vuole qualcosa di speciale affinché funzioni ci vogliono ci vogliono video belli però se tu riesci questa può essere un'idea un bel format storie inventate quindi qui nel caso storie della truffa vediamo questa ecco una storia inventata su una truffa delle lotterie in un tranquillo paesino di campagna avevamo un uomo di nome marco era un modesto agricoltore bla 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 gli arriva un messaggio eccetera eccetera può essere interessante uno si legge tutte le storie poi magari ve le potete inventare anche voi oppure fare delle storie vere su schemi su truffe su qualsiasi anche storie vere di truffatori cioè è comunque un bel canale è un'idea cioè iscriviti al canale perché ti ho dato veramente una grande idea iscriviti e commenta subito Michi che bella idea commentate ragazzi mi aiutate un sacco con la crescita di questo canale io vi do valore voi commentate che bella idea Michi fatelo adesso perché mi aiutato io vi ringrazio perché quando ve lo chiedo voi sempre vi impegnate e tanti commenti poi abbiamo un bel boost delle iscrizioni stiamo arrivando a 7000 iscritti sono molto contento anche se il nostro obiettivo era 10.000 iscritti entro la prossima settimana entro il 6 luglio che è il mio compleanno ce la possiamo fare c'è il circa 50% di voi che guarda i miei video ma non è iscritto iscriviti adesso e aiutami e scrivi un commento iscriviti e scrivi che bella idea mi raccomando quindi Cash Cow Channel storie storie inventate su qualsiasi argomento quindi abbiamo visto in questo caso specifico di truffe oppure puoi fare storie su imprenditori di gente che ce l'ha fatta per motivare anche che ne so mi viene in mente il mondo degli animali se fai storie di cuccioli cioè la gente va fuori di testa mi sto dando un sacco di idee ragazzi veramente però con Cash GPT veramente lui ci può scrivere le storie e abbiamo fatto i fly che punto ai che è quello che uso io oppure l'umen5 che è gratuito ti mette le immagini la voce non te la mette però puoi utilizzare altri software quindi ti invito se vuoi fare appunto questo business puoi sviluppare un canale youtube per guadagnare con le visualizzazioni se vuoi farlo guardati anche il corso completo quello da un'ora e mezza che trovi qui nelle schede oppure nella playlist corsi completi ti metto anche la playlist nelle schede e guardati quel corso e poi vai parti fai i video pubblicali ci vorranno tanti video un video al giorno se ci riesci con costanza e poi valuti vedi come va piace non piace il canale fermo forse non piace come posso migliorare forse ci vuole un titolo un po' più accattivante forse ci vuole e c'ha gpt e il tuo servizio ti può aiutare così come tutti gli altri tool credo che anche oggi sia stato un video incredibile ti ho dato anche proprio un'idea specifica non lo fa nessuno là fuori quindi iscriviti al canale e commenta che bella idea amici noi ci vediamo ad un prossimo video ciao ciao